Rieccoci qua, quarta e ultima parte, un po' particolare questa puntata perché abbiamo Lo zio sul divano, bella Lo zio sul divano, potrebbe essere il titolo di una telenovela, di una sitcom, Lo zio sul divano e anche Jack, quindi Jack è Lo zio sul divano. Perfetto, mi chiamavano anche Lo zio Jack. Lo zio Jack sul divano. Però non vorrei. Allora, ah ti chiamano Lo zio Jack? No, mi chiamavano, al tepe di Varese mi chiamano Lo zio Jack, il nonno. Il nonno è il nonno Jack. Stavo chiudendo un discorso. Poi coinvolgiamo Lo zio sulle fanali di Copitali, sul campionato, sul nostro basket. Allora diciamo, nella palacanesto di oggi, soprattutto in NBA, veramente c'è il capo allenatore, però c'è realmente che si occupa dell'attacco e della difesa. Houston aveva dei problemi, D'Antoni si è preso il suo ex che si era ritirato, allenatore che è stato anche capo a Denver, come allenatore della difesa e le cose sono cambiate. Perché è troppo complicato avere la supervisione di tutto. Nel football americano addirittura c'è attacco, difesa, capo allenatore, allenatore di ogni reparto, linebacker, ricevitore, runningback e via dicendo. Io credo, quello che hai detto tu, che ci sia un po' nel calcio, ma forse in partita sarebbe anche da responsabilizzare il secondo. Tipo Sarri con Zola. Zola ne capisce tantissimo. Perché? Perché ad esempio Zola, quando difendono male, non si occupa di quella parte lì. Allora, nel calcio funziona così. Tu hai l'allenatore e poi hai il tuo vice allenatore, che secondo me riceve le indicazioni di quelli che stanno in tribuna, che guardano dall'alto e danno delle indicazioni. L'ho potuto vedere, soprattutto anche quando sono andato a commentare partite in Inghilterra, avevo di fianco gli scouting del Chelsea. Anche perché dal basso non si fiede niente. No, e comunicavano. Certo. Esatto. E poi possono dare delle indicazioni anche tattiche all'allenatore, che magari è più attento a determinate cose. Ad esempio, io alleno dei ragazzini 2003 e ho il mio secondo. Io sto molto concentrato sui miei. E lui magari mi guarda la squadra avversaria e mi dice alcune cose. Anche perché, correttamente, io poche volte sono andato allo stadio, sono andato quasi a bordo campo, no? Quindi vicino all'allenatore, in quei posti di lì, onestamente io preferisco, non vedi niente. Io non capisco niente. Non si vede, no, ma vedi il giocatore vicino e dici, guarda, non so, guarda Cutrone, piuttosto che fai tu un nome, stavo a dire Perisic, ma mi sa che non è il nome da Icardi. Guarda com'è, quanti tatuaggi, perché lo vedi a un metro. Però poi in realtà lo sviluppo delle azioni è impossibile da seguire. Ma parliamo di basket. Noi seguiremo ovviamente le Final Eight. Dovremmo avere il tabellone delle Final Eight con quello che succederà a Firenze fra un paio di settimane, qualcosina di più, una ventina di giorni, dal 14 al 17 di febbraio. C'è subito una partita che almeno c'è stata domenica scorsa, abbiamo visto i risultati, Milano ha dominato Bologna, a parte nel terzo quarto, dove Bologna ha messo fuori la testa, ma poi è finita quasi con 20 punti. Però sulla partita secca Milano poteva cadere meglio, no? È già un bel inizio questo Milano-Bologna. Da tifoso e non esperto penso che sia la partita più difficile per Milano, perché anche l'anno scorso sono andato a vederla, aveva Cantù e ha perso. Male. Male. La partita più brutta della storia di Milano l'anno scorso l'ha fatta lì, sulla secca è uscita. È sulla secca perché le pressioni sono tante, mi viene in mente la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan, ci sono più di 20 punti in campionato, hai l'obbligo di vincere e tante volte questo ti blocca e quindi fai un po' più di fatica. Quindi Milano è favorita, però mi sembra come accoppiamento il più difficile, perché poi Bologna e vicino a Firenze arriveranno in tanti e noi di Milano come l'anno scorso eravamo in otto seduti lì da... Se non sbaglio l'anno scorso al primo turno sono saltate Avellino, Venezia e Milano, che erano tre delle contendenti. L'anno scorso è stato l'anno delle sorprese, ha vinto a Torino, finale con Cantù, con Cantù che tra l'altro è arrivata rotta e sono infortunati un paio di giocatori. Cantù che quest'anno si sta anche riprendendo, tu fai i pronostici o sei di quelli che davanti a un pronostico ti tiri indietro? No, io li faccio i pronostici. Escludi Milano, perché ovviamente essendo tifosi una squadra il pronostico va sempre da quella parte lì. Tra le altre sette, comunque in generale il basket italiano, quella squadra che ti ispira di più come tutto, in un anno un po' difficile, ad esempio per Trento e Brescia che negli ultimi due o tre stagioni erano là in vetta. Allora, gli anni scorsi ho sbagliato poco, perché noi abbiamo una chat del basket e ho sempre pronosticato Trento che arrivava in fondo e ci ho sempre beccato. Quest'anno Trento mi sembra diversa rispetto a te. Un po' fatica, anche la settimana scorsa ha fatto molta. Come profondità mi sembra che Venezia sia abbastanza profonda, che possa fare bene. E poi le squadre di Sacchetti possono sempre sorprendere in una manifestazione del genere. In effetti, Cremona è una squadra che tutti cercano di evitare perché Meoli sta facendo giocare molto bene, tra l'altro adesso recupereranno anche una questione di infortuni, dovranno tornare gli stranieri perché sono in troppi, quindi insomma li sta andando, direi, bene. Mike James è il Ronaldo del basket per quanto ci riguarda? Per quanto riguarda il nostro basket italiano penso di sì, che sia superiore agli altri. Poi io penso che possa migliorare negli atteggiamenti, in alcune situazioni, fare una fase difensiva sicuramente migliore. Vedo sempre da tifoso e non da esperto, perché mi piace vedere un po' le dinamiche di gruppo, come si comportano, come anche l'atteggiamento non verbale che hanno in campo, penso che possa addirittura fare di più di quello che sto facendo. Acuta osservazione da uomo di sport, sottolineo. Beh sì, gli americani proprio guardano l'atteggiamento facciale, no? Quando un giocatore, anche se sta giocando bene, come si interfaccia con tutto il resto. Direi che se Mike James riesce a migliorare questo particolare, essendo già un fenomeno, forse l'Europa lo perde, perché io credo che lui, magari non da protagonista come adesso, in NBA potrebbe, ci sta, è cittadino da quell'altra parte. Posso fare un esempio nel calcio? Sì. Cioè Maradona era amato da tutti, dai suoi compagni, anche se non si allenava, lui gli volevano tutti bene e tutti davano qualcosa in più per Maradona. Lottor Mateus, che noi riconoscevamo come leader, poteva farsi amare di più. Certo. Ecco, quello è sicuramente la differenza. Come nel basket era Pozzecco. Nel senso, Pozzecco amato da tutti, perché il Pozz aveva magari fuori dal campo degli atteggiamenti, però poi alla fine in tutti i palazzi dello sport, quando ha smesso di giocare, quando è tornato allenatore, io non ho mai visto applaudire uno che ti faceva 30 punti. Sorridi perché? Sorrido perché amato da tutti, amato e odiato. Sì, però poi alla fine con il suo atteggiamento... No, ci mancherebbe un genio della palacanestro. Un genio, ne dovremmo avere un amico poi soprattutto. Il basket dovrebbe crearli, clonarli il Pozzecco, perché era e speriamo di averne altri. Tornando invece alla nostra palacanestro, cosa consiglieresti, visto che si sta cercando il più possibile di dare spazio agli italiani, da anche esperto di calcio, dove ci sono regole un po' meno protettive, perché col 6 più 6 di adesso in Serie A si cerca appunto di proteggere gli italiani e di cercare di far giocare il più possibile quelli di Casanostra. Nel calcio non c'è un 6 più 6, ci sono regole molto più lasse, tant'è che ci sono delle squadre che mettono comodamente 10-11 stranieri in campo. Nel basket che consiglio daresti? Nel calcio è vero, però nella rosa di 25 devi avere un 4 più 4, cioè 4 che sono nati nel tuo settore giovanile e 4 di 4. Però non sei obbligato a farli giocare? No, giocare no. Quello è il problema. Non li porti in pachina quasi perché... Li farli giocare no, però nella rosa. E quindi nel basket diventa difficile entrare e dare un giudizio tecnico. Nel calcio si sta cercando di far esordire questi ragazzi con un po' più di coraggio, mentre prima mancava questo, no? Quindi gli zagnolo di turno, così. Nel basket faccio un po' più fatica, non so cosa c'è dietro per poi capire, perché insomma il giocatore italiano tante volte fa un po' più fatica. Scusa, faccio una domanda, tempo stringe, velocissima, poi ti chiedo un'ultima cosa. Hai nominato zagnolo, tu, esperto anche delle giovanili, è destinato a diventare veramente un super fenomeno e tutti ci auguriamo che nel basket ci arrivi, visto che Gallinari è un po' avanti, Bellinelli anche, da Tome anche, che ci capiti uno zagnolo. Perché tutti mi dicono che se va avanti così può essere... Ecco, Luka Doncic, sloveno, in NBA, può essere zagnolo nel nostro campionato. L'età è la stessa, tra l'altro. La storia di zagnolo la conosco da quando è alto così. E infatti, per quello. Lui non cresceva, la Fiorentina l'ha lasciata andare, è nato all'Intella, in un anno ha preso 20 centimetri, l'ha preso l'Inter... L'area del Golfo del Tigulio... L'area del Golfo del Tigulio aiuta, il mare aiuta. Tutte le cose gli stanno andando per il verso giusto, poi... Dico per la Fiorentina, che è la fortuna sua, ovviamente... Ma anche per l'Inter, perché poi l'ha ceduto ed è esploso nella... Sì, ma la Fiorentina ci può anche stare, perché a un certo momento, anche se io penso questo, che i giocatori di talento vanno aspettati. È un insegnamento di Mino Favini quando allenavo i ragazzi dell'Atalanta. Quindi anche se è piccolo, io l'aspetto. Poi vediamo cosa succede. L'Inter invece doveva fare delle plusvalenze, pensava che nell'affare Nainggolan i 4 milioni e mezzo valutato poteva essere una plusvalenze. O come non giocano Nainggolan non gli è andata benissimo. Però a luglio si poteva anche andare bene un certo tipo di discorso. Adesso con un zainolo così può diventare veramente giocatore importante. Marotto avrebbe fatto questo? Non lo so. I bilanci sono importanti ormai nel calcio. Abbiamo due minuti. Allora, parte il domandone finale. Abbiamo visto la Coppa Italia, abbiamo visto il campionato. Come mai Milano fa un po' fatica in Europa augurandoci che poi entri nelle prime otto, magari settimo o sesta. Questa è una domanda che ti voleva fare Jack. Parlate tra di voi, ma perché Milano? Cosa manca? La squadra c'è quest'anno. L'ha fatta lui. No, nel senso, io ho visto che Nedovic ha giocato solo cinque partite. Su 20, quindi... E Nedovic è un fenomeno, anche lui. La coppia James-Nedovic... E anche le volte, dopo la prima rottura, quando è guarito è entrato, è entrato con la Russo Faka, ha fatto 24 punti con una facilità estrema. Quindi penso che quel giocatore sia mancato. Però dopo ci sono altre componenti che magari faccio fatica. Con l'arrivo di Nanali, perché hanno preso Nanali, con l'arrivo di Nanali, a parte il campionato, dove ovviamente ci sarà una rotazione, in Europa... Dipende la mentalità con quale arriva poi Nanali, perché comunque arriva da un giro NBA o comunque è stato a casa e dipende se ha l'umiltà di rimettersi le scarpe dell'Eurolega, del campionato, perché non è così semplice. I campionati sono estremamente diversi. Milano ha bisogno di un appoggio di leadership in quel ruolo. Nanali sicuramente è un giocatore di altissimo livello, però ha fatto scuola, perché comunque quando è andato nel Fenerbahce all'inizio non giocava, poi ha cominciato a prendere fiducia e Obradovic l'ha utilizzato, ma nel momento giusto. Quindi dipende con che atteggiamento arriverà e come si inserirà nella squadra. Questi giocatori talentuosissimi per l'Europa tentano sempre, anche Stone a Venezia, la carta NBA e poi tornano indietro con le orecchie basse, purtroppo, per qualche motivo, e poi da noi invece sono da noi in Europa sono i giocatori giusti per un certo sistema. Ultimi secondi, zio tu hai abbandonato completamente, hai appeso, diciamo, la cartelletta al chiodo per il discorso allenatore o hai ancora voglia di... No, no, è appesa, alleno i ragazzi e mi diverto. Questo va per passione. Per passione. Cioè il tuo mestiere è il color commentato, come si dice, e ti trovi bene. Il talent, ci chiamano a scala. No, il talent, giusto, color in America, talent nel resto del mondo. Tra l'altro ti sei ritagliato, sei uno dei primi che ha cominciato a dire qualcosa di interessante invece di ripetere il replay a voce. Vabbè, certo. Ma ce n'è tanti gli ex calciatori che... Meglio stare zitti piuttosto che ripetere quello. No, ripetono quello che uno ha già visto. Quindi non ti rivedremo al di là che sui campi delle giovanili in qualche situazione pericolosa. No, no. No, pericolosa perché come sei i panchini di serie B che vanno e vengono. Molto bene, allora noi abbiamo chiuso questa nostra puntata e abbiamo avuto l'ultima mezz'ora molto piacevole. Lo diciamo a tutti anche perché come qualche nostro ospite non sei lontanissimo logisticamente dal nostro studio. Se vuoi tornare più avanti sei il benvenuto si sta abbastanza bene. Poi è la cameretta dei sogni, no? Ho un'idea, organizziamo una partitella con tutti gli ospiti a fine anno. Che belle idea. va bene, perfetto. Aspettiamo il bel tema. No, no, di calcio. No, di basca. Tre contro tre da fermo. Come gli scacchi. Se ti muovi ti muovi e poi devi stare bene. Noi siamo diversamente giovani ormai. Assolutamente. Questa direi che posso segnarla. È da frigo, ma lo scrivo sul frigo stasera quando torno alla mia fidanzata e mi chiederà cosa vuol dire e io dico che è stato lo zio a suggerirne. Molto bene, ringraziamo anche e salutiamo Gaia che ha lasciato il divano un po' di tempo fa. Grazie zio, grazie mille. Grazie a voi. Jack, noi alla prossima e come al solito ci salutiamo con qualche immagine un po' diverse e particolari dal mondo magico della palca in estro. Molto, molto meglio di quello del calcio. Mi piace. la prossima Belie, Grazie a tutti.